Come assistente allenatore il mio ruolo è quello di supportare lo staff e la squadra in tutto ciò che necessita in campo e fuori. La prima cosa che intendo sia utile mettere a punto è creare un feeling con lo staff, soprattutto con le richieste del capo allenatore, con le esigenze che ha, stesura del piano di allenamento, scouting dell'avversario, analisi del postgame, Durante questa seconda settimana abbiamo inserito molta più palla nelle nostre sedute di allenamento. La parte del preparatore fisico si è intervallata con le situazioni di gioco a metà campo e a tutto campo e stiamo imparando a conoscerci dal punto di vista cestistico l'uno con l'altro e le situazioni di spaziatura sono il main topic dei nostri allenamenti.